Ok, 2.000, 3.000, siamo a 3.000 euro, 3.000, ma aspettino se è, sono fatto da 10.000, no 10.000 sono, 5.000, 5.000, ma qua ha fatto con delle cifre uccidanti. Prima hanno visto solo la caccia avanti, i miei non hanno visto come modi il steghere, eh? Facciamo un applauso? Ok, siamo a 5.000, 5.001, 6.000, 6.000, 6.000, 6.000, 6.000, no, questo è dei troppi soldi, manco. 6.001, 6.002, 10.000, ce li hai? Allora siamo 6.001, 6.002, 6.003, giudicata la ragazza qua sotto.